Eccoci, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale, sono 22 minuti dopo la mezzanotte. Iniziamo con le notizie che arrivano da Palazzo Madama. Il voto sulla fiducia posta sul decreto per le prossime elezioni regionali al Senato è nullo. Al momento della votazione infatti mancava il numero legale nel corso di una seduta convulsa, tutto da rifare dunque. Si voterà già domani mattina, ovvero nell'ultimo giorno utile prima della decadenza del provvedimento del Governo. Ma oggi è stato anche il giorno del Capo dello Stato. Il Presidente Mattarella ha parlato di giustizia e dei tanti problemi che scuotono il mondo delle toghe italiane. I cittadini hanno diritto a poter contare sulla certezza del diritto e sulla prevedibilità della sua applicazione rispetto ai loro comportamenti. Lo dice il Presidente della Repubblica nel corso di una cerimonia in memoria dei magistrati uccisi dalla mafia e dal terrorismo che si è svolta al Quirinale. La fedeltà alla Costituzione, spiega Mattarella, è l'unica fedeltà richiesta ai servitori dello Stato. Il Capo dello Stato parla anche pensando alla cronaca recente che ha scosso tutto il mondo giudiziario italiano e puntualizza. Nel Consiglio Superiore della Magistratura ci sono gravi distorsioni. E poi parla delle logiche correntizie nel caso Palamara, il PM romano accusato di corruzione e che ha terremotato il CSM e conclude che quelle sono vicende in amaro contrasto con l'alto livello morale delle figure che oggi ricordiamo. E qui il Presidente ricorda i nomi di Giacumbi, Minervini, Galli, Amato, Costa e del giudice ragazzino Rosario Livatino. Il Presidente parla di gravi e vaste distorsioni nelle decisioni del CSM relativamente all'inchiesta di Perugia, proprio quella sul caso Palamara, due giorni fa Raffaele Cantone, è diventato il nuovo procuratore del capoluogo Umbro. Il quadro che delinea il Capo dello Stato è quello di una magistratura china su se stessa, preoccupata, dice, di costruire consensi a uso interno finalizzati all'attribuzione degli incarichi. La bussola da seguire per Mattarella è ancora una volta solo una, il rispetto rigoroso della Costituzione e ciò, sottolinea, vale anche per me stesso. Il caso di Giulio Reggeni, dopo la lettera inviata dal Ministro degli Esteri Di Maio al suo collega egiziano su appunto il caso Reggeni, dal Cario fanno sapere che c'è il massimo impegno a trovare la verità sul caso del giovane ricercatore italiano torturato e ucciso nel 2016 in Egitto. Stasera il Presidente del Consiglio Conte davanti alla Commissione parlamentare d'intiesta sulla morte di Reggeni ha detto che il governo italiano ha sempre sollecitato la verità all'Egitto e l'identificazione dei responsabili del delitto. Senza la verità, ha detto il Premier, i nostri rapporti bilaterali non potranno svilupparsi, attendiamo ancora una manifestazione tangibile di tale volontà aggiunto. Torniamo a parlare anche questa sera degli Stati Generali per l'Economia in corso a Villa Panfili, a Roma. Oggi è stato il turno dei rappresentanti di due e tre i settori più colpiti dalla pandemia il turismo e la cultura. Sono tra le categorie più colpite dalle ricadute del lockdown sull'economia italiana e anche due settori strategici per il rilancio del paese turismo e cultura. A loro ha dato voce la quinta giornata degli Stati Generali a Villa Panfili dove ieri Confindustria ha chiesto al governo meno tasse e più investimenti. Si fanno vacanze in Italia. È stato l'auspicio del Presidente del Consiglio Conte incontrando i rappresentanti di Federturismo. Già quest'anno sono convinto che riprenderà il turismo infraeuropeo nel nostro paese e presto tornerà anche quello extraeuropeo. Per questo è importante puntare sulla riqualificazione delle strutture e sul potenziamento delle infrastrutture. È stato l'impegno del Ministro della Cultura Franceschini. Confturismo ricorda che con 56 milioni di presenze in meno in Italia i danni sono stati chiaramente devastanti per un settore che vale il 13% del prodotto interno lordo del paese e il 15% della forza lavoro. La richiesta è di intervenire subito per contrastare l'abusivismo mettendo in campo linee di credito agevolate. Il settore alberghiero potrebbe avere davanti a sé ancora mesi di grandi difficoltà. Per questo servono misure che accompagnino le aziende almeno fino a tutto il 2020. Scelte coraggiose che aiutino il settore ha la ripartenza come un taglio al costo del lavoro, meno burocrazia e regole più snelle. Sono la ricetta per ripartire. È la stessa semplificazione chiesta dal mondo dell'agricoltura. Il Ministro Bellanova, un settore che ha pagato pesantemente il crollo dell'export perché il comparto agricolo, dice Coldiretti, da solo può creare 200 mila nuovi posti di lavoro. E restano stabili i contagi da Covid nel nostro paese. Oggi sono stati registrati 333 nuovi casi, 226 dei quali in Lombardia. In aumento invece i decessi, 66, ieri erano stati 43, mentre continuano a far discutere i festeggiamenti di ieri sera a Napoli e provincia. Senza il rispetto del distanziamento, dopo la vittoria in Coppa Italia della squadra di Gattuso, l'OMS e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito sciagurati tifosi napoletani e non è mancata la critica politica con Matteo Salvini che ha polemizzato con il governatore campano De Luca. Ed era l'ultima notizia, noi ci fermiamo qui. L'informazione sulla nostra rete torna alle 7.30. Buonanotte.